Sicuramente quello di rafforzare la tutela dell'economia legale di fronte ad una serie di effetti distorsivi su tutti, anche quello evidentemente legato agli appetiti criminali. È un'iniziativa che è stata fortemente voluta dal territorio e che risponde anche alle indicazioni del nostro Ministero, del Ministro dell'Interno, di una direttiva a suo tempo diffusa a tutti i prefetti. Abbiamo registrato una grande condivisione di questi temi e su questa sensibilità, non è semplice, io garantisco, una condivisione di intenti e una partecipazione forte sia da parte dei rappresentanti del mondo delle imprese che da parte delle stesse rappresentanze del sistema creditizio, su tutte rappresentate appunto dal Presidente della Commissione regionale, Abbi. Un elemento di forte garanzia è la presenza poi dell'organo di vigilanza della Banca d'Italia qui di Bologna.